6.600 metri quadri di musica, artigianato, degustazione ed enogastronomia dal 29 maggio al 2 giugno con Made in L'Aquila, una sorta di mini expo che vedrà la presenza di 60 espositori e 10 artigiani, la maggior parte locali, con tante iniziative collaterali, ludiche per bambini, sportive per tutti i gusti. Ci sarà anche uno spazio musicale per l'intrattenimento e ogni sera si esibiranno tre gruppi, tutti rigorosamente aquilani, con un totale di 15 spettacoli, coordinati artisticamente dall'artista aquilano Angelo Panetti. La manifestazione è organizzata dall'associazione John Actions, il cui referente Andrea Di Mario non gode di contributi pubblici, ma solo di sponsor, imprenditori, commercianti, aquilani, aziende hanno risposto benissimo. Tante adesioni di espositori ci sono già state, altre ne stanno arrivando, le iscrizioni scadranno il 30 aprile. Non si è voluto solo organizzare il discorso fieristico puramente della somministrazione e della produzione di alimenti, se no veramente avremmo fatto la solita sagra e invece no, non è così. Il commercio aquilano deve esporre a tutte le persone che verranno da fuori Aquila, quindi non solo gli aquilani, anche gente che verrà da fuori Aquila, deve esporre un po' di tutto. Noi siamo in grado come popolo di mantenere il nostro orgoglio alto per quanto riguarda la somministrazione, la produzione di articoli e di prodotti del territorio. Abbiamo delle ottime eccellenze, abbiamo una buona cucina, ma siamo anche in grado di ottemperare a quelli che sono i risultati di intrattenimento, quindi tutto quello che è il turismo, tutto quello che porta la gente a visitare l'Aquila per quello che realmente è una bella città, che ha voglia di vivere, che ha voglia di rinascere dopo dieci anni di stasi, di stasi completa. Il Comune ha adottato ufficialmente la manifestazione affinché diventi un punto fermo degli eventi ai cittadini. Ci sarà come ospite speciale anche lo chef stellato William Zonfa, che si occuperà di uno show cooking con prodotti locali. L'area interessata dalla manifestazione è quella esterna al megaparcheggio di Colle Maggio. Si cucinerà direttamente sul posto, ci sarà un ampio spazio poi per la degustazione, tutto ovviamente nei canoni della sicurezza in base alle nuove normative. Per l'Aquila sarà un maggio ricchissimo e l'Expo concluderà tutte le iniziative del mese legate anche all'arrivo della tappa del Giro d'Italia il 17 maggio. È da tempo che stiamo lavorando su questa manifestazione e anche sulla location che è particolare perché credo non sia stata mai utilizzata in questi termini. Quindi anche a livello sperimentale è una cosa che ci interessa particolarmente per quello che potrà essere la resa di questa manifestazione. Cade in un periodo molto ricco di eventi che tutto il mese di maggio farà seguito all'arrivo del Giro d'Italia che porterà con sé anche altre manifestazioni ed eventi. Questo va nell'ottica e nel segno di un tentativo di rivitalizzazione della città e di tentare di portare gente nel centro anche per gli operatori economici che vi stanno lavorando.